Ciao ragazzi, qui Pabba e Gamers in Co, facciamo un piccolo gameplay su GTA San Andreas Allora, dobbiamo uccidere sti tipi dei Vagos Abbiamo, ho detto di me Big Smoke, che è tipo il vice boss E io sto tranquillamente guidando questo supermoto Ma, è incompetente, sia io che guido che lui Dai, ce la puoi fare? Sali, dai, veloce! Quindi, andiamo a riprenderli, andiamo a riprenderli, andiamo a riprenderli Andiamo a riprenderli Allora, ecco, scusate un attimo, c'era stato un piccolo momento di pausa Allora Stavo dicendo, andiamo a riprenderli Ovviamente passo un treno Quindi, non signore, rallenta Rallenta e Allora Infatti sto davanti a siti tipi Dove sono? Non li vedo fino alla mappa Dai, andiamo, dai, andiamo Cacchio, a questo punto solitamente l'avevo già fatto due La nostra missione è alquanto impossibile Andiamo a riprenderli, andiamo a riprenderli Dai! Dai, CJ! Take the secondary street Mamma, che inglese Allora, io ho scoperto un trucchetto Quello secondo me è una genialata di trucchetto Questo è per passare l'altro treno Dove è? Eccolo qua Ovviamente non è funzionata, la mia super media idea Muove, di solito che sono lenti Perché andiamo un attimo qua, andiamo lenti perché sarà così non riprendibile Andiamo tranquilli Andiamo, vai, ora, ora, vai, uccidi, steccali Eh, non ce la facciamo, signore Sono troppi, sono troppi, sono troppi, sono troppi, eh, sono troppi, sì Oh, è spiritoso Allora Nel caso è fallissimo questo missione, dopo dobbiamo farne un'altra Magari più facile E ovviamente non ce la faccio Eh no Peccato, peccato Peccato, peccato, bravo Allora, missione fallita, ora siamo sotto il diluvio e con la moto oggi, ce l'abbiamo fatto di moto, ora andiamo da un altro che vi è stufato, questo qua è antipatico di smoto, prima cerchiamo di non ucciderci cercando di separare il guardrail, rubiamo un trattore e andiamo a fare la prossima missione, però io con la missione l'avevo finita, però poi è successo una roba, è stato tipo esplosato la play e non sono riuscita a salvare, quindi sono anni che sto provando, è inutilissima, il jeep della polizia che non serve niente, siamo nella zona dell'online ma non c'è in questo momento a casa nessuno con me che possa farlo non l'ha, cioè non l'ha in multiplayer, allora, andiamo, di qua, non è che devono schiantarci con ogni cosa, il CJ, Carl Johnson, andiamo, andiamo, soggiorno intondo così, a caso, perché è divertito, vabbè, il trucco qua è per uscire da queste cose, questi cerchi innevati e le alti montagne azzurre, e prendere boschi e attraversali tutti, così o finisci, o torino nella civiltà, o finisci in paesi spai tutti, non ci credi, oh vai, speriamo la salita meno salito, visto, visto che sono troppo intelligente e siamo più o meno in una zona abitata, perché se non vediamo, davidatissima, no, se mi vedeva che roba epica che non era, ora, andiamo a prenderli, andiamo, andiamo, in bici, no, però adesso mi sta veramente, perché da andare veloce, aspettate che devo segnalarmi il punto del tizio che devo smissionare, allora, allora, … ecco qua, rider, qui vado dritto, 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 e peggio all'ultimo, ok, perfetto qui è giù tutta dritta andatevi a vedere gli altri video sui youtube ora andiamo giù giù, giù, giù giù, giù, giù sempre giù, sempre giù dobbiamo girare qua in che stile si gira la tira su momentaneamente giusto per girare che grafica epica qua rigiriamo qua scendiamo anche se non è necessario però è più bello fare sempre queste discese così a caso risaliamo ci perdiamo e torniamo a taglio che bello giù 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 qua l'entrata del nostro quartiere epico il nostro epico quartiere col che classe si parcheggiano le moto in questo gioco con che classe e la parcheggio qua, perfetto andiamo catalyst post altra volta che faccio anche questa missione quindi scusate se non salto ma devo leggere cosa dicono allora allora ok allora invece si ok perfettissimo questo è lo sbirotampani della missione precedente con se non c'è da finire calma 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 shallow boys ecco la droga per lo sbirro ok via ok un treno farà una e vado a fare per l'anno a burro c'è una cosina interessante tra voi ragazzi ok la serie io c quello che ti spiego perché stanno facendo le droghe in casa perché ha perso il pacco di droga che aveva uuuu tranquilli 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 io provo a ragazzo d'oro nasce come povera e io credo che sono la seconda mission ma improvvisamente si pop up a un albero e andiamo buona toglione la raglie perché veramente antipatica ok altra parte giudicuo qua andiamo giù giù dritto visti no fanno andando su ecco come si gioca ecco come si tira ecco tutto signori mettiamolo sotto perché ecco valmente devo sparare infatti metà non non ho una una singola arma io non ho niente lui era a soltanto ucciderli senza niente ovvio qui non lo fa vai meno al botto staccalo staccalo stacca dai 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 che faccio dai chi è venito i cazzotti dai lì cecchiniamoceli tutti non uccidere i passanti che fatica a fare queste cose ma fa un cuore mi hanno steccato un'altra giornata di scappare perché stavo morendo ma ce la farò a fare una missione siamo giunti al 10 e un minuto più o meno alla terza ora di gioco che è poco però ho fatto un po' di missioni ora rubiamo l'auto questo si non ce la vediamo che a parte la rubo lo stesso epico signore epico 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 vabbè ora c'è anche un bel posticino dove salutarvi e poi finiamo il video allora non è neanche idraulica questa auto stifosa quasi quasi la concluderò la spiaggia anzi la concluderò qua no però la devo tarpeggiare dentro tarpeggiamo perfettamente qua ma perché? ci sto cercando di salutare il mio pubblico e poi si mi sparano ma fate schifo dovete morire sotto un tram esplodi ora epico si 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 mi nascondo dai ecco la luna dietro che vi saluta ciao ragazzi grazie per il like e iscrivetevi al canale